La sconfitta di domenica contro la Cianermini è stata una sconfitta pesante soprattutto nel risultato e quindi siamo dispiaciuti ma vogliamo ripartire dagli errori per cercare di migliorarsi, di crescere e questa è una settimana importante. Ci attende il derby con la Lucchese, il primo di cinque derby di cui tre giocheremo in casa. Per noi il derby con la Lucchese vale quello con il Prato, quindi è un po' diverso da tutti gli altri e quindi speriamo di fare una grande prestazione, che la squadra sia incitata dal nostro pubblico e di riuscire a mettere sotto la Lucchese. Cosa chiede la società a questa squadra? La società non vuole essere umorale, quindi non ci siamo esaltati dopo due vittorie iniziali e non ci abbattiamo dopo questa brutta sconfitta. Quindi c'è bisogno sicuramente di avere un po' di attenzione in più come gruppo, come prestazione generale per cercare chiaramente di essere più bravi sotto porta, di essere più attenti in fase difensiva. Quindi sicuramente di cercare di migliorarsi. A maggior ragione siamo una squadra giovane, quindi il mister sa come lavorare, sa come farli migliorare, come farli crescere. Quindi l'importante è avere l'umiltà di lavorare sempre al massimo, di imparare dagli errori e di voler sempre migliorarsi. Ci tenevo a parlare proprio questa settimana perché io per primo questo derby lo sento tanto. Sono quelle partite che si incominciano a giocare dal martedì, quindi l'attesa è tanta. Non vorrei dire la tensione, ma sicuramente la giusta adrenalina per poter arrivare alla partita nel migliore dei modi. Quindi spero domenica tanti tifosi sostengono la squadra perché ne ha bisogno. Il gruppo è unito sia dentro lo spogliatoio che con lo staff tecnico e la società. E quindi se saremo uniti tutti insieme anche con i nostri tifosi sicuramente possiamo provare a fare una grande prestazione. Grazie... Grazie